Gaetano Di Vaio è nato a Napoli, nel quartiere di Piscinola da famiglia poverissima, figlio di un custode di una scuola della periferia di Napoli. A causa delle precarie condizioni economiche familiari viene messo in collegio dai 7 ai 14 anni, dove subisce sopprusi e violenze. Uscitone, sin da giovane entra nel mondo della tossicodipendenza e della delinquenza, senza tuttavia mai affiliarsi alla camorra. Entra così in riformatorio, nelle comunità per minori a rischio e per tossicodipendenti. Fino all'ingresso nel carcere di poggio reale per rapina e per spaccio di stupefacenti. Ne è uscito nel 1998. Nei 7 anni di detenzione ha studiato, si è documentato ed ha costruito le basi per un futuro di riscatto, diventando operatore culturale. Dal 2001 è entrato nella compagnia I Ragazzi del Bronx Napoletano, creata da Peppe Lanzetta. Ha poi fondato nel 2003 l'associazione culturale Figli del Bronx, divenuta in seguito una casa di produzione cinematografica. Nelle sue opere di Vaio descrive il disagio sociale delle periferie degradate, il mondo della tossicodipendenza e della vita carceraria. Con attenzione alla lotta contro la criminalità, alle minoranze, ai migranti e dalla disoccupazione giovanile nel 2013 ha pubblicato un libro autobiografico. Vive ed opera Napoli.